Avellino sfida Trieste con l'obbligo della vittoria a scacciacrisi in chiave play-off e inizia con il piede sull'acceleratore. Harper firma il più 8 e Dalmason è costretto al time-out. Campo Grande impatta con decisione tra attacco e difesa. Il Capitolino risponde ad Aros, che domina la scena nel primo tempo dei Giuliani. Green concede tanto in difesa. La tripla di Sykes vale il 26 a 19 al decimo. Campo Grande è l'arma in più della Siligas. Doppia cifra di divario, anche il più 15 per la Scandone. Qualche momento no, ma Trieste resta distante, con il 50-38 all'intervallo. Fuori programma sul parquet, con una proposta di matrimonio che sorprende il pubblico del Paladel Mauro. Sembra tutto in controllo, ma Avellino garantisce, come spesso accaduto nell'ultimo periodo, il rientro agli avversari. Subito il meno 5 con Dragic, che domina la scena nella ripresa. Tante difficoltà per i lupi che sprecano il divario. Il alma con forza trova la parità al trentesimo. Tutto in gioco nel finale. Avellino sprofonda fino al meno 7, ma trova le soluzioni utili, personali e non da squadra, per impattare. Harper realizza, Trieste sbaglia l'ultimo tiro ed è overtime. Anche nel supplementare, Sigle e Biancovirdi, ma la maggior decisione di Dragic viene fuori negli istanti conclusivi. Finale di 96 a 97, coach Nenad Vucinic finisce sul banco degli imputati e ammette in sala stampa dopo il K.O. è in discussione e attende le decisioni della società.